fucile Lee Enfield della Denix prodotto in Spagna fedele a quello originale come possiamo vedere a tutta la cassa in legno fino al calcio il calcio molto interessante perché hanno riportato la parte in ottone come quella vera attacchi per per tracolla caricatore estraibile tramite questa leva e riagganciabile semplice da utilizzare l'otturatore è ammovibile e viene riarmato e si può tirare guilletto l'arma ovviamente è occlusa di libera vendita non necessita di nessuna tipologia di permesso in quanto inerte si può conservare in casa tranquillamente di oltre di mira come le originali fucile inglese usato in ben due guerre mondiali sia la prima che la seconda era l'arma dell'esercito inglese d'ordinanza ben riprodotto ben fatto come tutti i prodotti della Denix quarti in metallo scure quindi in